Si parla della violenza sulle donne, stai zitto tu capone, stai zitto tu perché tuo affari in culo non ci mandi nessuno, non ci mandi nessuno, stai zitto Sto piano, dai, dai, per favore, per favore, per favore, può fare in culo non ci mandi nessuno, cafone, non è educato, questa violenza le donne, anche quella verbale violenza, anche quella verbale violenza, agganci nel culo ti prenderei Stai zitto?